Questo breve video serve solo per informarvi che giovedì 18 maggio alle 20.30 durante la mia classica diretta del giovedì sera avrò come ospite Luca Boiardi di The Crypto Gateway a cui potrete fare delle domande oltre che a me. Quindi in descrizione di questo video vi ho messo il link alla diretta, potrete fare le domande via chat, potrete farle sia a me che a lui, però ricordo che se volete potete anche mandarmi le domande prima via email all'indirizzo info-marcocavicchiori.it, vi metto comunque anche questo in descrizione, così se non dovesse riuscire a partecipare in diretta noi partiamo a rispondere alle domande che mi inviate via email e poi potrete vedervi la registrazione sempre allo stesso video durante la quale le prime risposte saranno alle domande ricevute via email. Per chi non dovesse conoscere Luca, il suo canale YouTube è questo, vi metto il link in descrizione, credo che sia il canale crypto più seguito d'Italia, quindi insomma dovreste conoscerlo tutti e gentilmente si è reso disponibile a rispondere alle domande durante la mia diretta del giovedì sera. Quindi segnatevelo dopo domani sera alle otto e mezza qui sul mio canale YouTube. Un saluto, ciao!